Ciao, nel comandamento oggi suona un gioco al maximalismo, qualcosa amare Dio dal tutto in nostra forza, dal tutta, dal tutto. Perché qualcosa di questo tipo? Sempre mi stupivo perché? Io penso che noi siamo chiamati a qualcosa che è alto, che è molto bello, e se non riempiamo questo nostro posto, nostro desiderio con Dio, finiamo male. Finiamo i vari tipi di nazionalismi, i propri patriotismi, e finiamo tutti gli idealismi, ismi. Se invece riusciamo tutte le nostre forze a usare a lui, questo sarà buona localizzazione. L'altro aspetto del Vangelo oggi è amare altro come noi stessi. E sempre stavo pensando più di tanto su questo, se questo chiamare ad amare anche se stessi più, o negare se stessi perché non vogliamo dare ad altri tanto. E penso che qualcosa qui è che non vogliamo dare ad amare più di tanto, più mettiamo cura di se stessi, riusciamo a vedere i bisogni degli altri, di questo aspetto importante. Più anche diamo più ad altri, vediamo che anche noi riprendiamo la nostra attenzione. Ma cosa trovo molto difficile in questo comandamento? Penso che soprattutto situazioni quando iniziamo a fare differenze tra noi e altri, che noi abbiamo più diretti di altri, noi come un gruppo, noi come un gruppo, noi come un gruppo. Grazie. Grazie.